Si chiude col botto il mercato del pistoia basket che ha angaggiato la guardia statunitense Dominic Johnson. Giocatore di grande talento, con un importante bagaglio di esperienza a livello europeo, Johnson, 31 anni, ha giocato da protagonista in Polonia, Israele, Turchia e Germania, oltre ad aver disputato le ultime due stagioni in Italia in Serie A con Varese e Venezia. Nato a Detroit, dopo la consueta gavetta nei college, Dominic ha iniziato la sua carriera fra i protagonisti in the league, dove ha vestito le casacche di sei franchigie diverse. Nel 2013 lo sbarco in Europa con i polacchi dello Slark Vrokav, vincendo subito la Coppa Nazionale. L'anno successivo con il Siar Katarnozeg è il miglior marcatore della massima categoria polacca. Poi il trasferimento al Maccabi Rishon in Israele, quindi in Turchia al Bandir Babanvit, con la quale ha disputato l'Eurocup. Breve apparizione in Germania con l'Alba Berlino, quindi l'arrivo nella nostra penisola con Varese, dove ha chiuso la sua prima esperienza in Italia a quasi 18 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media gara, contribuendo in maniera decisiva alla conquista della salvezza. Nell'estate del 2017 sono i campioni in carica di Venezia a puntare su di lui. Johnson li ripagherà con 11,6 punti e quasi 3 rimbalzi e altrettanti assist di media gara, ma soprattutto con la conquista della FIBA Europe Cup, primo trofeo continentale nella bacheca del club Oro Granata. È una classica guardia realizzatrice, ha commentato Cocce Ramagli, che in carriera ha sempre dimostrato di saper segnare, e questo è ovviamente quello che anche a Pistoia gli chiederemo. Sarebbe inoltre bello che non perdesse le altre qualità che ha, a cominciare da quella di essere un creatore di gioco. Con Dominic, ha concluso il tecnico Livornese, completiamo il nostro quintetto con un altro elemento di grande esperienza. Ora dovremo essere bravi a trovare il nostro equilibrio basandosi sulla solidità di chi ha esperienza e l'energia di chi ha la gioventù.